Diciamo che il principio generale, adesso bisognerà vedere che cosa decide il Consiglio dei Ministri, è cercare di non bloccare il Paese e quindi dare la possibilità anche a chi è entrato in contatto con un soggetto positivo e però è protetto, come si stanno dimostrando i booster, cioè la terza dose, di non fare un periodo lungo, ma limitarsi all'autosorveglianza, quindi nel momento in cui eventualmente insorgesse un sintomo, di segnalarlo subito, altrimenti di aspettare cinque giorni e poi di fare un tampone. L'autosorveglianza è stata resa necessaria perché è difficile fare il tracciamento, il sistema è andato in tilto o anche perché è giusto mettere il cittadino in una condizione di responsabilità? No, perché bisognava trovare un compromesso tra le enorme contagiosità della Omicron che rischiava di bloccare il Paese. Se lei pensa che ogni soggetto normalmente ha dieci contatti positivi, diciamo contatti, è chiaro che in questo momento abbiamo un milione e sarebbe stato impossibile. Lei ha incontrato positivi? No, io credo che tutti ormai hanno qualcosa di questo tipo in famiglia o comunque di sentito dire. Cioè in questo momento la contagiosità è tale che c'era la necessità di trovare un equilibrio, un compromesso che non bloccasse il Paese ma che naturalmente non facesse circolare il virus oltremodo. In qualche momento aveva cominciato a diventare persino un pretesto per non incontrare persone sgradite, ho avuto un contatto con un positivo e quindi anche forse in qualche caso per non andare al lavoro, diciamo la verità. Ma non lo so, sostanzialmente però è vero che già Delta aveva cambiato le carte in tavola ma Omicron l'ha completamente sconvolto. Cioè il ritmo di crescita di questa variante è impressionante. Non abbiamo mai visto niente nei passati 30 anni, quindi tutti anche coloro che hanno studiato epidemie e pandemie si sono in qualche modo sorpresi, raddoppia ogni giorno e mezzo. L'abbiamo visto in Francia, lo vediamo in Gran Bretagna, purtroppo lo vedremo anche da noi. Allora, professore, se leete?